Che c'è? Ti ho preso un regalo. Una foto autografata di Temptation Lane. Come sei riuscito ad averla? Ha conoscenza e è molto influente. Ok. Avevo nove anni e dovevo togliermi le tonsille, stavo male. Allora mia madre ha preso una pausa dal lavoro e... è stata con me, rannicchiata sul divano davanti alla TV a guardare gli episodi di Temptation Lane. Quindi ogni volta che lo vedo adesso mi fa sentire come se fossi a casa e... è al sicuro. Ecco qua. Spara a zero. Ammetto che quello che vedo io è orribile in confronto a Temptation Lane. Ma sono felice di sapere questo di te. Ti lascio sola. Ehi Castle, grazie per la foto. Ci vediamo. Ciao. 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 Grazie a tutti.